pronti per entrare nella biblioteca di border nights che poi coincide con la biblioteca di barbara marciana te barbara grazie fabio sì in effetti i libri sono quasi completamente miei quindi ne posso parlare con grande tranquillità perché gli ho sotto mano in cartaceo volete sentire ecco ve li faccio sentire eccolo qua sono libri che ho letto che sto per leggere ma che comunque hanno suscitato in me già dal titolo qualcosa di molto interessante di molto così che mi ha incuriosito ecco questa sera vi parlerò di un libro che non ha avuto il successo che comunque forse meritava anche perché ci sono un po di refusi all'interno dei testi ma questo non significa nulla sul contenuto secondo me a molti è piaciuto come sempre a molti è piaciuto a molti non è piaciuto per niente anche perché dice e non dice ecco a me queste cose piacciono da morire dice non dice così almeno ti fai un'idea di quello che tu comunque avresti anche potuto immaginare allora il titolo è chi ha avvelenato rudolf steiner biografia non autorizzata di un grande iniziato da parte di andrea franco uno editori anno di stampa 2014 allora qualcuno i detrattori dicono ah ma non c'era mica bisogno di scrivere un libro basta andare su wikipedia o su google impostando rudolf steiner e ti dice esattamente le cose che dice il libro no no non sono d'accordo ci sono tante altre cose che andrea franco ha detto ha scritto che non si trova comunque sulle famose schede di wikipedia andrea franco è un laureato in scienze politiche con l'attesa di con la tesi di sorone guenon ed è lavorato per 30 anni circa in un'azienda di credito e mi direte che c'entra forse c'entra con i suoi interessi ha incontrato l'antroposofia di rudolf steiner ecco perché prima devo dire chi è rudolf steiner rudolf steiner è il creatore dell'antroposofia è uno scienziato dello spirito è un uno che ha una una che aveva una libera coscienza e cercava di spingere una forza propulsiva per il risveglio collettivo lo so non è facile capire che cosa vuol dire però vi posso assicurare per esempio che sono nate delle scuole steineriane dove i ragazzi super dotati possono esprimersi attraverso lavori manuali e mi direte e beh che cosa c'è di nuovo no no c'è tanto di nuovo perché seguiti da comunque insegnanti preparati della scuola di steiner riescono a far venire fuori da questi ragazzi super dotati ripeto super dotati tutte le loro potenzialità l'antroposofia dice il andrea franco è pensabile come una pianta da cui siamo cresciuti diversi frutti che sono poi le realizzazioni pratiche la quale abbia come fondamentale ragion d'essere la possibilità di produrne dei nuovi fatto lasciato in ultima analisi alla libertà e alla creatività di chi a un certo punto della propria esistenza senta la necessità e il desiderio di coltivarla ecco perché vi parlavo di ragazzi super dotati torniamo al titolo però chi ha avvelenato rudolf steiner all'interno del libro non si dice chi l'ha avvelenato però si fa forse anche un po' capire è il mistero dietro la sua morte probabilmente non naturale ad occupare un buon numero di pagine ma senza dire niente di particolare steiner infatti dovete abbandonare prematuramente la terra che amava molto e il movimento antroposofico che aveva creato in un momento molto delicato della sua storia perché perché fu avvelenato lo dice lui poi adesso sentirete dal brano che ho scelto da questo libro steiner così riportano molte testimonianze dei suoi collaboratori fu probabilmente avvelenato e l'ipotesi abbastanza credibile aveva molti nemici sia dentro la chiesa cattolica e fra i militanti del movimento nazista che era ancora ai primordi all'epoca steiner affermava che il cristianesimo rosa cruciano di cui lui si considerava un continuatore avrebbe sempre trovato un avversario accanito nel gesuitismo ecco ricordate questa parola i gesuiti alcuni membri della compagnia di gesù non si risparmiarono calugne a mezzo stampa ai suoi danni e poi ci fu un incendio un incendio molto particolare che distrusse il goteanum per dirlo con esattezza il tempio dell'antroposofia che era stato costruito interamente in legno ecco quindi l'incendio era facile a dornac in svizzera e fu opera pare di un poveretto che morì tra le fiamme aizzato da sacerdoti gesuiti eccoli qua e poi ci furono degli avversari ancora più aggueriti degli antroposofi che erano i cosiddetti ariosofi che fondevano dottrine esoteriche paganesimo germanico e razzismo da quella fucina uscì ovviamente il nazismo e non stupisce che hitler criticò steiner fin dal 1921 con l'accusa di essere un agente dell'ebraismo steiner però dal lato suo poco prima della sua morte aveva profetizzato che nel 1933 si sarebbe manifestata la bestia dell'apocalisse ma è noto però che proprio in quell'anno il fuhrer prese il potere io già vi ho detto qualcosa che spero vi abbia incuriosito e adesso vorrei passare al famoso brano che ho scelto dal libro e la pagina 139 di rudolf steiner chi ha avvelenato rudolf steiner di andrea franco quel primo gennaio 1924 nel pomeriggio secondo quanto riferiscono fra l'altro diversi biografi di steiner fra cui simone riu e caros avvenne anche un ulteriore fatto che avrebbe avuto ripercussioni fatali nel prosiego della vita di steiner e nella storia dell'antroposofia quasi un contraccolpo occulto all'atto cosmico umano della fondazione dei nuovi misteri appena compiuta gli furono offerti del tè e dei pasticcini subito appena ingerito un dolce steiner appare per un attimo stravolto gettate via tutto disse mi hanno avvelenato e pregò i pochi presenti di non diffondere l'episodio onde non scasenare ondate di panico fra i presenti facciamo notare che steiner aveva sempre goduto di una salute di un'efficienza fisica fuori dal comune il giovane autista e tesoriere wachschmuth ad esempio faticò non poco a starli dietro quando l'allora 62enne fondatore dell'antroposofia si arrampicò sulle colline prospicenti tinta gel in cornovaglia e che nonostante i contraccolpi che la sua compagine fisico vitale aveva subito in seguito all'incendio del goteanum non sembrava aver ricevuto danni irreparabili dall'attacco devastante all'edificio centro delle attività legate al suo insegnamento. L'avvelenamento del primo gennaio costituisce quindi il terribile punto di svolta che di lì a 15 mesi avrebbe causato la sua morte prematura. sull'episodio a parte le testimonianze dei presenti fra cui quella della moglie non esiste molto altro ma il fatto in sé apre la porta a importanti interrogativi. Che tipo di veleno fu usato? Chi fu l'esecutore materiale del crimine e soprattutto quali i mandanti? Se sul primo punto mancano i dati essenziali a parte l'accenno a veleni orientali da parte di qualcuno molto più semplice la risposta alla terza domanda. Come scritto nell'introduzione la zona incriminata per i vari motivi ricordati nell'introduzione stessa e per quanto immerso dal tipo di accoglienza ricevuta dall'attività pubblica dell'iniziato solare rosicruciano compreso l'incenerimento del goteanum ma la statua del Cristo rappresentante dell'umanità ferocemente ugualmente odiata da religiosi ed esoterici filonazisti è giunta fino a noi è quella che spazialmente corrisponde alle mura leonine della città eterna e spiritualmente all'eredità occulta e palese gestita dai depositari degli esercizi di Ignazio di Loyola vera controparte oscura della luminosa disciplina rosicruciano micaelita fondata sulla liberazione del pensiero delle compagine biologica minerale umana e dalla successiva opera di rimodellamento di essa secondo le forze scaturite dall'impulso del mistero del Golgotha. Secondo punto, la mano che materialmente colpì sapeva quello che faceva? L'avvelenatore era stato omnubilato occultamente come potrebbe essere stato o agì in piena coscienza. Allo stato attuale delle conoscenze in merito sarebbe possibile solo fare delle congetture e preferiamo lasciare la cosa in sospeso. Se però il lettore vorrà seguirci nel prosiego e soprattutto nell'analisi delle vicende del dopo Steiner, una qualche direzione indiziaria basata sul tradizionale metodo del cui prodest potrà forse sorgere. Dopo l'avvelenamento Steiner cominciò a non tollerare più alcun alimento se non a prezzo di autentiche sofferenze e questo lo portò alla morte 15 mesi dopo il convegno di Natale. Un altro problema che però sarebbe stato subito superato angustiò per un certo periodo la vita di Steiner, questa volta sul piano interiore. E con questo Barbara Marchand vi augura una buonanotte e un appuntamento alla prossima puntata su Border Knights.